Scandalo Temptation Island. Lino e Maika Beccati ha letto insieme. Temptation Island, una rivelazione scioccante su Lino e la tentatrice. Lino, Giuliano e Alessia Pascarella sono stati una delle coppie più seguite di questa edizione del programma condotto da Filippo Bisciglia. Fin dall'inizio, Lino ha mostrato un particolare interesse per la single Maika. La sua fidanzata ha sopportato a lungo, ma alla fine ha deciso di lasciarlo. Nelle ultime ore è emerso un video in cui Lino e Maika si divertono insieme, mimando una motocicletta con le sedie. Questo è un chiaro riferimento al fatto che Alessia aveva detto che il suo fidanzato non possedeva una moto. Prima, Lino aveva pubblicato un video in cui appariva con una moto, poi è emerso il video della serata con Maika. E ora c'è dell'altro, un contenuto esplicito. Lino e Maika, una foto intima che non lascia dubbi, stanno insieme. Lino e Alessia si sono lasciati male, con accuse reciproche e senza possibilità di riconciliazione. Maika mi ha fatto capire cosa cercavo, ha detto il trentenne, una ragazza che mi capisce e mi dà le risposte giuste al momento giusto. Ora, una foto è emersa e dice più di mille parole. Lino e Maika sono stati visti a letto insieme. Prima c'era stata una serata con altri protagonisti di Temptation Island come Raul Dimitras, Alex Petri, Christian Lanfranchi, Mara Valentini e Gaietta Ciferni. Lino ha scherzato con Maika e alla fine della serata è arrivato il colpo di scena, o forse l'epilogo più naturale. I due sono andati a letto insieme. È stato lo stesso Lino a mostrare la foto con Maika. Erano le sei e trentaquattro del mattino e i due erano abbracciati a letto. Immediatamente è arrivata la reazione di Alessia che ha scritto su Instagram. Vi chiedo la gentilezza di non mandarmi niente che riguardi Lino. Non mi interessa con chi sta e dove sta. È una persona che non mi appartiene più e libero di fare ciò che vuole. Basta solo che non nomina il mio nome. Poi ha aggiunto una frecciata. Siamo molto diversi. Io non sto insieme a persone che sparlo. Lui sì. Lui sì.